Un incontro gradito, una fettuosa accoglienza da parte di Mario Colligiuri, io sono sindaco di Rossano, sono venuto proprio oggi con un consiglio meno importante, quindi ho detto i miei, io non posso esserci perché sarò a Soveria Mannelli perché De Mita rappresenta non solo un collega, perché per età è quello che è e per quello che ha rappresentato, ovviamente è la segretaria del partito quando mio padre era senatore e quindi io sono venuto per molti motivi, anche perché la nostra partrenza democristiana, come lui stesso ha invocato questa sera, di riunirsi di nuovo per tornare a parlare dei grandi problemi del Paese è uno dei motivi per cui mi ha intrigato e quindi io sono corso da Mario per essere presente quest'oggi. È stata una grande elezione, quindi io ho chiesto scusa ai nostri amici di Rossano, però ovviamente io ho fatto e sono felice di essere qui questa sera, quindi io ringrazio Mario, ringrazio il Presidente De Mita perché ancora una volta, nonostante l'età e quindi l'età in politica non conta, conta il cervello, ha dimostrato ancora una volta che ha le idee chiarissime, molto più chiare di tanti giovani che fanno politica. Lui è ritornato a fare il sine con una grande voglia di aiutare ancora una volta i giovani nella sua città e quindi sarà per me motivo anche di molito per poter fare, ovviamente anch'io, del mio meglio a Rossano perché la situazione complessiva sia della Calabria sia del Paese impone naturalmente che chi ha qualcosa da dirsi e che bisogna ritrovarsi insieme per poter fronteggiare dei momenti che sono di assoluta difficoltà e quindi chi è ottimista come me non può che rimbocarsi le maniche e cercare di dare una mano alla Calabria e alla nostra nazione.